Perché le liste d'attesa sono così lunghe? Oggi in ospedale bisogna aspettare 720 giorni per fare una mammografia, 300 giorni per una visita dal dermatologo, un anno per un'ecografia, un'attack o un intervento chirurgico. Le cause sono molteplici, ma tutte riconducono ai tagli subiti dalla sanità negli ultimi anni. Tra il 2010 e il 2020 sono stati tagliati 38.684 posti letto e 29.284 professionisti. Ma le necessità dei pazienti sono sempre le stesse ed essendoci meno letti per ricoverare i pazienti e meno personale per curare i cittadini, i tempi di attesa si sono necessariamente allungati. Poi il Covid ha complicato ulteriormente le cose, avendo bloccato quasi tutte le attività ospedaliere per oltre un anno. Ma quali sono le conseguenze delle liste d'attesa? Diagnosi e trattamenti tardivi potrebbero aggravare la malattia del paziente, rendendo più complessa la cura. Se non si investe in sanità è a rischio la salute di tutti.